il vero io non ha forma risorto sempre attaccanti in arrivo tra 30 secondi dai dai io mi prenderò cura di pure danni maggiorati a quanto pare dovrò curarvi tutto come al solito 5 4 3 2 1 attaccanti in arrivo difendete l'obiettivo a tenete d'occhio la salute e chiamatemi se vi serve aiuto 3 3 3 4 4 5 5 6 6 5 6 6 6 7 8 8 9 10 10 10 11 11 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 21 21 21 Sì, però se la sciamma dietro ci fanno l'incuscio di quella, come questa. Eh vabbè, cazzo il muro. Sì, però se la sciamma dietro ci fanno l'incuscio di questa. Sì, però se la sciamma dietro ci fanno l'incuscio di questa. Sì, però se la sciamma dietro ci fanno l'incuscio di questa. Sì, però se la sciamma dietro ci fanno l'incuscio di questa. Sì, però se la sciamma dietro ci fanno l'incuscio di questa. Sì, però se la sciamma dietro ci fanno l'incuscio di questa. Sì, però se la sciamma dietro ci fanno l'incuscio di questa. Sì, però se la sciamma dietro ci fanno l'incuscio di questa. Sì, però se la sciamma dietro ci fanno l'incuscio di questa. Sì, però se la sciamma dietro ci fanno l'incuscio di questa. Sì, però se la sciamma dietro ci fanno l'incuscio di questa. Sì, però se la sciamma dietro ci fanno l'incuscio di questa. Sì, però non si fanno l'incuscio di questa. Grazie a tutti Ok, è andato 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 Andiamo